ciao sono andrea io ho frequentato il corso facendo economia e commercio mi sono avvicinato a questa azienda perché prima del corso avevo molta ansia soprattutto proprio in sede d'esame agli esami orali e avevo molte difficoltà nell'esprimere i concetti e effettivamente non stavo ottenendo neanche risultati perché avevo dato sette esami in due anni e mezzo che praticamente potevo già aver finito l'università invece mi sono trovato nemmeno a fare un anno di sessioni e dopo il corso invece sono riuscito a ottenere molti risultati in primis sono riuscito a dare quattro esami subito nella sessione successiva ne ho dati quattro a quella dopo e quella dopo addirittura cinque e sono riuscito finalmente anche a passare diritto privato che avevo bocciato cinque volte prima del corso e infatti dapprima soprattutto a livello di organizzazione delle informazioni nelle materie soprattutto queste dove c'erano tantissime cose da memorizzare facevo tantissima confusione e dopo il corso invece ho iniziato ad organizzare perfettamente tutte le informazioni ad essere in grado di richiamarle con velocità e sicurezza infatti diritto privato da che non avevo neanche il coraggio di rimettermi a studiarlo e vivevo anzi soltanto al pensiero di aprire quel libro sono riuscito a passare alla prima volta e mi ha dato tantissima fiducia infatti grazie a questo poi sono riuscito a laurearmi finendo anche un anno più che in pari con 69 crediti e quindi sono riuscito a laurearmi successivamente giusto perché volevo tenermi in allenamento sono anche riuscito a memorizzare 700 vocaboli di portoghese in una settimana perché dovevo andare in brasile e in più sono ho affrontato tre colloqui lavorativi e sono stato preso tutte e tre le volte quindi sicuramente posso dire che il corso mi ha dato tantissimo perché adesso sono molto più sicuro di quello che sono le mie capacità ho capito che tutto quello che posso realizzare è veramente il mio potere dipende solo dagli strumenti che prendo e in questo caso ho preso proprio quelli giusti grazie a tutti Grazie a tutti.